Ehi ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! le carte leggendarie Nello scorso video sono riuscito a capire dove si trovano Thea e Joy al molo Ovviamente dobbiamo prima sconfiggere tutti quanti i ghoul Trovare Mokuba, sconfiggere i due ghoul che lo tengono in ostaggio Sì, altri due ghoul Umbra e Lumis piuttosto forti E poi andare da Kaiba che ci dirà che Joy si trova al molo Andiamo E insieme a Bandit Kit ovviamente Che tra l'altro ti ho già battuto anche fosse Comunque Amos, Yu-Gi, finalmente siete qui Ma ora non andrete più da nessuna parte Vediamo cosa potete fare contro tutti noi Dobbiamo dividerci, io affronto i ghoul Amos, Kit è tuo Un'altra volta Non credere che io perda due volte, scemo Ma... Oh, a questo punto Comincio io Attivo l'effetto di Doron il doppio Così almeno dopo posso subito sacrificare nel caso io volessi evocare un mostro 1.6 a quello Perfetto Ti evoco Leo Eccolo qua Oh, yes Attacchiamo Porca di quella, porca Accidenti a te Però gioca in difesa, bene Non ha mostri Allora Ti evoco Questo qui Attacco questo e via Ti attacco ci provo Grande, perfetto Non ha niente Bene, bene, bene Ora Maschera Maschera vai Attacca maschera Grande Ok, ora ragioniamo Vai, finì Attacca Non l'ho ancora attaccato con te Ah, perché non ha giocato niente lui Ah, ma quindi è finita allora Ah, ma allora ho vinto Ah, perché praticamente sto velocizzando perché mi ha battuto 14.000 volte Ho detto ok Ok, sai che velocizziamo un po' il tutto Vai, 30.000 domino Zero è il mostro Wow Lui ha anche Zoa in questo deck Divinità Chi sconfigge una divinità? Niente Solo con il livello Di attacco Ma No Maestro Marikishtar Complimenti per aver sconfitto Keith I tuoi colleghi ti stanno aspettando Marikishtar Tu Andiamo Oh Ma c'è un ghoul là sopra Io lo vedo È nascosto là sopra Si vede Guarda, si vede che sta là sopra Nascosto Accidentialmente Ah, ora è scomparso Ah, perché era Marik Che stava lì sopra Ah, posso entrare? E qui posso entrare? A quale pro posso entrare qui? A che serve? Ma grandi Allora, andiamo un po' a vedere dov'è Joy Guarda Cioè, non serve a nulla Ma l'hanno messo lo stesso il posto qui Il level design Bravi Joy Thea, tutto a posto? Grazie di essere venuto Ti aspettavo Joy, che ti prende? Duella con me, Yugi Ma perché? Joy, ascolta Zitto Basta con le chiacchiere O Thea Gardiner pagherà con la vita Anche a Gen Lavate il cervello Con lo shampoo Amos Yugi Ora morirete Chi perde Finisce incatenato in fondo al mare Tenuto fermo da un ancora No, non posso duellare con la vita di un amico No? Allora Thea Gardiner farà quello che vorrò Cosa farà? Se glielo ordino Berra del veleno Rifiuti ancora il duello? Ma che bastardo Che paroloni forti Linguaggio ragazzino Duella Ora Joy, svegliati Non serve Devo proprio farlo Ok Guarderò la tua battaglia Yugi Padaccino di fuoco Che si fa attaccare No Non posso vincere Non posso battere Così il mio amico Io Non ce la faccio Allora salutami il fondo del mare Ci si è buttato volontariamente Stai fermo Marcisci fra le alghe Ah, devo per forza buttarmi Ok Ancora? Ho capito Marcisci tra le alghe Sì Toccherà a me combattere Joy Allora mi sa Stupido fino alla fine Così sia Amos Tocca a te Ma stavolta non ti salverà nessuno Ora basta Facciamo una finita Bene Parto con Doron il doppio Lui è un mostro in difesa Ho messo a casa del nastro Biadesivo E Ok Non è ok Proprio per niente Però Bisogna fare Quello che va fatto La curiosità Mi fa male E' certo Prossimo turno Ti aggiusto io No Basta Queste carte che fanno danno Basta Per favore Oh Attivo l'effetto di apprendista Della strega Si si potenzierà solo lei O lui Ma comunque Tant'è Niente Non è Attacco Ti pareva Facciamo una cosa piuttosto veloce Grazie Tributo Toron Per evocare Lo stregone Leo Che farà un po' di casino Ora Scusatemi il volgare termine Ma tant'è Oh E mo ti voglio vedere Sono proprio curioso Ora E mo ti faccio un po' di danno Yeah Tocca a te Vai Guerriero razzo No Trasforma il razzo Che debolisce un mostro sul campo Va bene Guarda Che maledetto La 1500 Ed è tipo terra Servirebbe un tipo vento Per batterlo Eh fa scintille 50 danni Così a caso Con Econ Catena Ha potenziato un mostro Ma non è vero Ah ecco l'evento Va To Piace questa Guerriero razzo Cos'è qui Eh no Fermati Tu attacca qua Bravissimo Oh guerriero razzo Come ti piace eh Come ti piace Li da Tributo due mostri Per evocare Guerriero planetario E mettere fine al duello Yeah Oh yeah Come mi piace vincere così Dragonero occhi rossi Oh beh Che bella Artwork Hai capito Spaventoso Dragonero Dagli occhi rossi Sputafuoco Nero intenso Che rade Tutto al suolo Non era proprio così Ma ok Amos Tu Ma questo burattino Me ne disperò Joy Joy Wheeler Svegliati Risparmi il fiato È il mio burattino Noi La nostra promessa Ci siamo promessi Di andare in finale Insieme Tutti e tre È inutile Il mio burattino Se ne andrà in fondo al mare Joy Ricorda Ricorda la nostra promessa Promessa? Sei Joy Wheeler Il nostro amico No Non è possibile Non lo controllo più Yuki Amos Io Cosa? Sei ritornato in te? Cosa stavo facendo? Dove sono? Dai Torniamo Torniamo dove? Non sai quanto sia felice Scusa Devo essere stato sbadato Sbadato? Mi ha preso la sprovvista Fa niente Tu Te E tutti noi Siamo sani e salvi La colpa è tutta Di Mari Kishtar Quel Mari Kishtar Ma chi è? Diceva di avere Un millennium item Ma non so perché Stanno cercando di avere le carte E neanche perché Ce l'hanno proprio con noi Se arriviamo in finale Si farà certo vivo Allora me la pagherà Puoi starne certo Codardo Sempre nascosto dietro ad altri Lo farò a pezzi Mari Kishtar e Scagnozzi Verranno dalle finali È lì che inizierà La nostra vera battaglia Sì Hai ragione E ok Allora Può concludersi qui Questo episodio Di Yu-Gi-Oh Wow Abbiamo salvato Joy Battuto una seconda volta Bandit Kit Dopo che lui mi ha sconfitto Un numero imprecisato di volte E siamo liberi Ora di andare Alle finali Manca sempre Sempre meno Ne sono contento quasi Per ogni modo Io vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate tutti quanti Link utile Se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi A noi Ci vediamo Ovviamente Domani con un nuovo video Bye 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 Domani con un nuovo video A noi ulu